I concetti della domenica sono 16 all'interno della stagione più ampia di Mantua Musica, che sono complessivamente circa 50 concerti in varie location, naturalmente i concerti della domenica si tengono esclusivamente al tratto Bibiena, la domenica alle ore 17. Noi apriamo con un omaggio ad Antonio Vivaldi oggi con due capolavori, un capolavoro della musica sacra con lo Stambat Mater e quello forse il più conosciuto del compositore veneziano, che sono le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, con una giovanissima violinista. Questa è una ricorrenza perché, come sappiamo, Antonio Vivaldi soggiornò e lavorò qui a Mantua per un periodo di tre anni. Questo è stato appunto l'ultimo anno di 300 anni fa, insomma nel 1720, e si dice che abbia avuto, se non ha composto qui le quattro stagioni, comunque sia stato ispirato dai paesaggi bucolici della Mantua del Settecento. Grazie a tutti. Oggi il Bibiena Chamber Orchestra terrà il suo primo concerto, sarà anche il concerto inaugurale dei concerti della domenica di Mantua Musica. Sono molto felice di essere stato coinvolto dal maestro Maffizzoni, che ringrazio tantissimo. La formazione è costituita da giovani professionisti e quindi ci auguriamo che le cose procedano nel migliore dei modi. La formazione di questa sera consta di 12 elementi e quindi anche il prestigio del teatro, ovviamente, il Bibiena è qualcosa che riempie di gioia e di orgoglio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.